Allora in questo video vedremo poche cose ma molto specifiche, infatti siccome ho ricevuto diverse domande su come utilizzare Wobby e come andare a creare proprio nella pratica un pack ETF su un paniere di criptoalute, in questo caso ne vedremo 25 quindi in questo video vedremo come fare su Wobby, il deposito in euro, come spostare questi soldi dalla parte spot alla parte exchange e come andare a fare tutti gli acquisti e vedremo anche una piccola chicca per tenere monitorato il proprio portafoglio in maniera veramente efficiente infatti andremo a vedere come collegare le API di Delta e di Wobby le API in pratica è un codice che una volta inserito su questa applicazione andrà ad aggiornare automaticamente tutte le transazioni che andremo a fare andando a inserire perfettamente il prezzo di acquisto, il prezzo di vendita e quindi permettendoci di monitorare in maniera perfetta il nostro portafoglio in maniera tale da sapere in ogni secondo il nostro bilanciamento, la nostra esposizione, il nostro guadagno oppure la nostra perdita insomma tramite la possibilità che ci offre Wobby di andare ad utilizzare le API andremo a vedere come fare questa cosa ovviamente prima di iniziare il video ti ricordo come sempre che questi non sono consigli finanziari perché io andrò a fare questo pack perché fa parte della mia strategia che ovviamente è stata pensata e studiata per me quindi mi raccomando tu non seguire alla ciega, prima valuta se possa fare al caso tuo seconda cosa prima di cominciare e di andare a vedere direttamente come fare nel caso in cui non fossi iscritto a Wobby trovi in descrizione un link per poterti registrare ovviamente il link in descrizione per massima trasparenza è un reflink quindi sappi che nel caso in cui dovessi decidere di utilizzarlo a te non costa niente ma aiuta il canale a crescere e a portare contenuti sempre di maggiore qualità adesso che ho detto tutte le premesse possiamo andare direttamente a schermo per vedere come fare passo dopo passo allora in questo momento sono sulla schermata principale di Wobby oltre a questa schermata mi dovrò aprire una schermata su Bitpanda per quale motivo? perché andremo ad estrapolare i dati del cripto indice offerto da Bitpanda però andandolo a replicare su Wobby quindi comunque ci servirà innanzitutto essere registrati su Bitpanda anche se comunque poi praticamente non dovremo fare nessuna operazione però comunque sia anche se non andremo a fare niente a livello pratico su Bitpanda ci servirà avere l'accesso per andare a vedere come sono pesate le varie cripto alute all'interno dell'indice ok siamo entrati su Bitpanda andiamo su prezzi andiamo su cripto indici e andiamo su questo qua che è quello di mio interesse ci ho fatto un video molto molto specifico a riguardo te lo lascio qui linkato in alto a destra nel caso in cui ti facesse piacere guardarlo sappi che è una strategia che io trovo molto interessante ma che come dico in quel video io non andrò ad utilizzare su Bitpanda io l'andrò a replicare su Wobby per una serie di ragioni ci ho fatto anche in questo caso un video specifico per indicare le ragioni di questa scelta te lo lascio di nuovo linkato in alto a destra nel caso in cui tu volessi guardarlo comunque sia dovremo andare ad aprire l'indice 25 cripto alute dopodiché clicchiamo qui su mostra altro e a questo punto abbiamo la lista delle cripto alute che dovremo andare a comprare quindi questa pagina ce la teniamo da parte perché ci servirà tra poco fatto questo torniamo su Wobby ovviamente vi salto la parte della registrazione vabbè è una registrazione banalissima bisogna registrarsi lasciare le mail e una volta fatto questo bisogna mandare i documenti ovviamente senza documenti per ovvie normative di antiriciclaggio non ci sarà possibile fare nulla quindi la cosa fondamentale è mandare i documenti e farsi autenticare a me ci ha messo neanche 3 minuti quindi insomma è veramente rapido una volta quindi che abbiamo fatto l'account e che abbiamo mandato i documenti siamo abilitati per poter utilizzare questo sito a tutto tondo diciamo che abbiamo sbloccato praticamente tutte le funzioni allora partiamo dal caso 0 ovvero quello in cui non abbiamo mai comprato criptovaluta quindi non possiamo mandarci criptovalute da un altro sito a questo sito perché appunto non le abbiamo mai comprate quindi partiamo dal caso 0 nel caso in cui io rientrassi in questa casistica dovrei andare su buy crypto e una volta arrivato a questa sezione vediamo che è possibile comprare le criptovalute in diverse maniere allora andiamo ad analizzare le principali e soprattutto quelle più convenienti allora qua vediamo che ci è possibile comprare criptovaluta ad esempio in questo caso USDT che è quella che io andrò a comprare per poi andare a comprare tutte le altre criptovalute ricordo che USDT è una stable coin che quindi rimane ancora dal dollaro e non oscilla nel caso in cui io volessi andare a comprare USDT posso scegliere tra EURBALANCE tra bonifico SEPA e tra carta di debito oppure di credito non fa differenza allora nel caso in cui io scegliessi SEPA qua non ci sono commissioni ovviamente l'unico contro è che il bonifico SEPA ci può mettere un po' ad arrivare soprattutto è dipendente anche dalla tua banca e anche i costi sono dipendenti dalla tua banca cioè se la tua banca ti fa pagare i bonifici SEPA allora innanzitutto cambia banca perché nel 2021 non si può sentire che tu debba pagare per un bonifico SEPA ma vabbè tolta questa piccola parentesi nel caso in cui quindi tu dovessi fare un bonifico SEPA i costi sono solamente quelli a carico tuo Wobby ovviamente non ti addepita a nessun ulteriore costo nel caso in cui tu dovessi andare a fare un bonifico SEPA che cosa succede? che gli euro che tu vai a depositare li ritroverai e lo vedremo tra poco nel tuo wallet spot sotto la voce euro quindi tu diciamo che è come se avessi gli euro anziché averli in banca li hai direttamente su Wobby in quel caso quindi tu non hai comprato criptovaluta hai semplicemente depositato euro la seconda funzione è EURBALANCE in questo caso questa sezione quando è che la possiamo andare ad utilizzare? ovviamente quando li abbiamo prima depositati quindi in questo caso io non li ho depositati quindi questa voce la possiamo utilizzare ed è praticamente senza fee solamente nel caso in cui abbiamo già depositato gli euro qua la piattaforma ci ricorda che non possiamo comprare meno di 15 euro e più di 14.000 euro in una sola botta e detto questo vediamo la prima funzione ovvero quello della carta di debito allora io adesso siccome sarà la prima rata del pack e siccome sto registrando il video e non ho voglia di aspettare il bonifico SEPA e soprattutto è domenica andrò ad utilizzare la carta di debito una piccola precisazione che voglio fare è che come tutte le piattaforme quando si va ad utilizzare il metodo più comodo il metodo più semplice e anche più rapido in questo caso ovviamente ci sono delle fee aggiuntive in questo caso le fee sono anche abbordabili allora io sicuramente le eviterò in futuro io andrò sempre a fare dei bonifici SEPA questo è chiaro però nel caso in cui una persona dovesse avere un'urgenza di comprare criptovalute perché magari non so pensa che quello sia l'esatto momento in cui bisogna entrare il metodo più veloce è senz'altro questo perché è proprio immediato praticamente una volta che andiamo ad inserire i dati della carta compriamo immediatamente le criptovalute ovviamente però ci sta un costo aggiuntivo che lo andiamo a vedere immediatamente allora nel caso in cui io volessi andare ad esempio a ricaricare 100 euro tramite la mia carta di debito vediamo che mi verrebbero riconosciuti 111,21 USDT come faccio a capire quante sono le commissioni? a parte che ce lo dice dopo però nel caso in cui volessimo controllare con i nostri occhi come funziona andiamo su google schiamo conversione euro dollaro andando a mettere 100 euro in questo caso in questo momento a conversione ufficiale 100 euro corrispondono a 112,40 dollari quindi come andiamo a vedere qui ci vengono riconosciuti 111,20 quindi la differenza da quello che ci dovrebbe essere riconosciuto come USDT e quello che invece ci viene riconosciuto è circa un dollaro e 20 che sul 100 euro è più o meno l'1% quindi se andiamo ad utilizzare questa funzione ovvero quella immediata tramite la carta di debito andremo a pagare una fee extra di circa l'1% specifico che in molte altre piattaforme questa fee è molto maggiore ma piattaforme che sono anche molto più famose di solito la fee può arrivare anche al 3-4% quindi fate sempre molta attenzione quando andate ad utilizzare questa metodologia se è possibile se vi riuscite ad organizzare per tempo mi raccomando il bonifico SEPA è sempre la miglior soluzione a quel punto avrete gli euro e andando su Euro Balance qua vedremo la quantità disponibile in euro e potremo comprare tutto quello che vogliamo infatti se andiamo a vedere esattamente in questo momento sempre con 100 euro anziché ricevere 111 USDT come nel caso della carta di debito attraverso il balance di euro ne riceveremo 112,33 che corrispondono praticamente alla conversione ufficiale quindi in quel caso non ci sono fee e la piattaforma si rivela ancora più efficiente una volta selezionata la quantità di euro andiamo su Buy USDT ci ripiloga le commissioni che in questo caso infatti sono di 1 euro e una volta che abbiamo inserito la nostra carta io ovviamente l'ho già registrata in questo caso clicchiamo su conferma e ci verranno riconosciuti gli USDT in questo caso se dovessimo utilizzare questa metodologia troveremo gli USDT nel nostro Wallet Spot adesso andiamo a vedere nello specifico di che cosa parliamo ok io ho fatto adesso l'acquisto per la precisione ho utilizzato una Postepay quindi siccome spesso vedo le domande sui social che sono posso utilizzare una Postepay perché evidentemente la maggior parte delle persone hanno una Postepay come ce l'ho anche io anche se comunque non la utilizzo quasi mai la sto utilizzando solamente per fare questo esempio nel caso sappiate che è possibile utilizzarla una volta che abbiamo completato il nostro acquisto torniamo nella schermata principale e per andare a vedere i nostri fondi dobbiamo andare su Balance e infatti i nostri fondi li troveremo per il momento su Fiat Account è qui che andremo a trovare gli asset che abbiamo appena comprato infatti una volta che ci clicco se mi caricasse la pagina anche velocemente ecco qua troviamo i nostri asset allora come vedete euro zero per quale motivo? perché non ho bonificato SEPA ho utilizzato direttamente la carta per comprare gli USDT come abbiamo visto prima nel caso in cui avesse fatto un bonifico troverete i vostri euro su questa voce in questo caso io mi trovo gli USDT perché? perché ho comprato 100 dollari allora la cosa che bisogna sapere che magari è poco intuitiva ma che insomma una volta che abbiamo appreso è molto semplice soprattutto perché questo funzionamento è tipico anche di altre piattaforme importanti quindi è utile conoscerlo e impararlo a capire dovete considerare che è come se la piattaforma fosse scomposta in due parti allora ci sta la parte wallet spot che semplicemente è come un contenitore dei vostri asset in cui però non ci puoi fare nulla se non prelevarli oppure mandarli e la parte exchange nella parte exchange ti sarà possibile andarli a tradare quindi ti sarà possibile scambiarli venderli comprarli e fare tutte quelle cose che riguarda appunto una gestione attiva dei tuoi asset ma invece nella prima parte ovvero quella del wallet spot nella parte deposit tu non puoi fare praticamente nulla quindi per poterle utilizzare queste che abbiamo appena comprato in questo caso 100 dollari li dovremmo trasferire dalla parte wallet spot anzi scusate questa piattaforma è chiamata fiat deposit se non ricordo male eccolo qua fiat account scusate quindi una volta che abbiamo i nostri asset sulla parte fiat account e nel caso in cui li volessimo utilizzare li dovremmo andare a spostare sulla parte exchange account come si fa così bisogna andare qui sulla criptoaluta di nostro interesse in questo caso USDT clicchiamo su transfer e lui ci chiede da dove li vuoi spostare da dove a dove in questo caso io voglio fare il percorso inverso ovvero da fiat a exchange in questo caso clicco su inversione e che cosa vado a mettere USDT trasferisci tutto trasferisci il trasferimento è immediato senza fee è semplicemente una parte dell'interfaccia della piattaforma ma a livello di conto è la stessa cosa sono sempre fondi nostri ovviamente una volta che abbiamo fatto questo avremo gli USDT direttamente sulla parte exchange e a questo punto finalmente possiamo andare a comprare tutto quello che è di nostro interesse allora io adesso siccome non vi voglio ammorbare con 25 acquisti diversi di quelli che dovrei andare a fare vi andrò a mostrare solamente magari i primi 3 i primi 4 insomma non so quanto viene lungo ovviamente il meccanismo è lo stesso per tutti gli asset quindi una volta che vediamo i primi è la stessa identica cosa lo stesso identico procedimento prima di continuare mi raccomando se ti interessano argomenti come questo iscriviti al canale perché il prossimo mese andrò a fare il mio primo ribilanciamento su questo ETF il ribilanciamento che cosa vuol dire? vuol dire andare ad allineare il mio balance il mio portafoglio a quello che è l'ETF per quale motivo? perché ovviamente durante questi giorni durante questi 30 giorni o 40 giorni adesso vedrò se farlo a fine gennaio oppure il 19 gennaio giorno in cui sto registrando le criptovalute presenti all'interno dell'ETF oscillano cambiano di prezzo e quindi ovviamente cambieranno il loro peso all'interno dell'ETF come ho già ampiamente spiegato nel video di cui parlavo all'inizio di questo video quindi che cosa vuol dire? che a fine mese andrò a fare un video in cui vado a mostrare nella pratica come andare a ribilanciare tramite un foglio Excel tramite l'app Delta e quindi in maniera molto semplice in questo caso andiamo a vedere i primi acquisti abbiamo quindi gli USDT sulla parte Exchange a questo punto andiamo su Market 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 sarebbe praticamente la parte della piattaforma in cui è possibile effettivamente operare allora andiamo a vedere il primo acquisto quindi torniamo sulla pagina di Bitpanda che avevamo aperto prima io devo comprare il 19,60% del mio portafoglio in Bitcoin cioè in questo momento il mio portafoglio deve essere così esposto 19,6% Bitcoin 16,5% Ethereum 6,44% l'Una che cosa vuol dire? che se il mio pack fosse di 100 dollari al mese facciamo conto oppure 100 dollari alla settimana insomma quelle sono cifre indicative e personali facciamo conto che io in questo caso dovessi andare ad utilizzare 100 dollari per praticità che cosa vuol dire? che io dovrò andare a comprare 19,60 dollari di Bitcoin torno su Wobby mi vado a cercare qui la coppia che mi interessa ovvero Bitcoin USDT me la apro e a questo punto vabbè questa diciamo è la classica schermata di un po' tutte le piattaforme nel caso in cui volessi fare le cose molto semplici che è quelle che andrò a fare io bisogna andare su un mercato che cosa vuol dire? che andiamo a comprare Bitcoin al prezzo di mercato quindi in questo caso siamo dei maker non dei taker siamo persone che vanno a prendere un ordine dal book quindi noi non andiamo a inserire un ordine nel book che potrebbe essere fillato oppure no noi andiamo a prendere appunto Bitcoin in questo momento al prezzo di mercato e in questo esatto momento il prezzo di mercato è 46.828,69 dollari mi raccomando se non sapete cosa state facendo non andate sugli altri ordini che sono ordini avanzati quindi una volta selezionato market andiamo su total e andiamo a inserire la quantità di USDT che vogliamo utilizzare per andare a comprare Bitcoin che in questo caso sono 19.60 una volta comprati Bitcoin mi dà ordine eseguito con successo e quindi ho fatto il mio acquisto non devo fare nient'altro adesso procedo con il mio pack magari vi faccio vedere anche un secondo esempio così ma tanto poi sono tutti quanti uguali cerco qua at apro at USDT mi raccomando non gli altri che sono cose diverse una volta che mi assicuro che sto su at USDT stessa identica cosa di Ethereum quanti ne devo comprare vado sull'indice Bitpanda e vedo che Ethereum pesa il 16.50% quindi siccome io sto mettendo 100 dollari e il mio portafoglio in questo momento sarà di 100 dollari vuol dire che devo comprare 16.50 dollari di Ethereum torno da quest'altra parte e digito 16.50 clicco su buy e mi fila l'ordine insomma e bisogna fare così per tutti gli asset a nostra disposizione ovviamente questi asset nel momento in cui li andiamo a comprare ce li ritroveremo che questo sia chiaro perché è la stessa cosa che ho detto prima ce li ritroveremo sulla parte exchange non sulla parte fiat ok quindi in questo caso giusto per farvi vedere come funziona infatti sulla parte exchange che cosa trovo troverò il bitcoin che ho appena comprato per l'equivalente di 17 euro e stessa cosa per Ethereum quindi diciamo che questo qua è il procedimento base nel caso in cui tu volessi andare a mettere a rendita questi asset magari da qualche altra parte per generare un extra rendimento ovviamente puoi anche prelevarli ed è il motivo principale per cui io ho deciso di fare questa cosa su Wobby infatti di tutto l'elenco siccome alcuni asset avranno dei pesi veramente piccoli questi asset magari fino alla quinta sesta posizione io li lascerò direttamente su Wobby perché come dicevo nell'altro video Wobby è veramente molto sicura ovviamente la sicurezza al 100% non ci sta mai ma tra tutti i player del settore è quello più sicuro da quando è stato creato dal 2013 e questo lo rende anche uno dei più anziani exchange al mondo non ha mai subito degli hack quindi dal punto di vista della sicurezza è molto buono io mi sentirei tranquillo fino a certi importi a lasciarli anche direttamente qui dentro ovviamente se si parla di importi grossi io li porto sempre fuori questo è chiaro nel caso in cui li volesse andare a mettere a rendita bisognerà andare su withdraw e a questo punto ci chiederà che cosa vogliamo prelevare non so in questo caso mettiamo ethereum ci chiederà l'indirizzo a cui li vogliamo mandare e tramite quale chain in questo caso con ethereum sarà possibile utilizzare la ethereum chain che ha delle fee abbastanza alte anche se in questo momento no perché 7 euro su ethereum sono buonissimi oppure magari potremmo andare ad utilizzare su usdt molte altre chain infatti su usdt possiamo utilizzare la tron chain che ha fee 0 ed è anche praticamente istantanea oppure la chain di algorand la wabi chain insomma possiamo andare ad utilizzare diverse chain quindi penso di aver detto tutto nel prossimo video andremo a vedere come ribilanciare questo portafoglio perché io in questo caso andrò a comprare 25 asset ma il prossimo mese li dovrò andare a ribilanciare quindi magari quella parte è un po' più delicata e quindi penso che ci farò un video dedicato poi magari a livello semestrale quindi ogni 6 mesi andrò ad aggiornare le mie posizioni andando a parlare del pack e di come sta andando perché io penso che questo esperimento sia molto interessante ovvero andare ad utilizzare una strategia classica nel mondo azionario ovvero quello di replicare l'indice di riferimento il benchmark che magari nella finanza tradizionale potrebbe essere l'SP500 per moltissime persone in questo caso andiamo a prendere quella strategia quella ideologia che ha tanti anni di backtest e di studi alle spalle e che dimostra che funziona e la voglio andare proprio a riportare sul mondo delle criptoalute per andare a vedere se effettivamente funziona quanto funziona e che rendimento sappi che come dicevo nel vecchio video dal 2014 al 2021 questo ETF ovvero quello delle 25 criptoalute ha sopraperformato bitcoin del 9000% infatti il rendimento è stato del 29000% cioè qualcosa di molto molto importante quindi penso che possa essere interessante ora detto questo andiamo a vedere come dicevo all'inizio video come andare a collegare le api di delta e di uobi in maniera tale che tutti i movimenti che andremo a fare saranno registrati in maniera automatica questo che cosa ci permetterà di fare a fine mese ci permetterà di andare ad aprire delta un'applicazione molto comoda e molto ben fatta sul cellulare e andare a vedere in ogni secondo come è composto il nostro portafoglio questo ci sarà molto utile quando a fine mese dovremo andare a ribilanciare perché per andare a ribilanciare noi dovremo conoscere perfettamente la nostra esposizione in quel determinato momento quindi questa cosa ci sarà molto molto utile allora che cosa dobbiamo andare a fare allora innanzitutto sul cellulare vi scaricate delta è questa applicazione qua una volta la serie scaricata l'aprite la lasciate un attimino da parte un momento andiamo su account e andiamo su api management allora in questo caso che cosa dobbiamo andare a fare qui possiamo mettere il titolo che vogliamo non so delta chiamiamola così perché tanto saranno le api che andremo a collegare a delta dopodiché andiamo a selezionare read only questo che cosa vuol dire che questo codice che tra un po' sarà generato e che ovviamente dobbiamo tenere comunque custodito permetterà a Wobi e delta di parlare ovviamente in maniera anonima ma la parte importante è che l'unico permesso che avrà delta sarà quello di leggere il bilancio quindi non andremo a dare nessun permesso di prelievo di deposito di trade niente di tutto questo delta sarà solamente in grado di andare a leggere le informazioni presenti su Wobi in maniera tra l'altro anonima quindi andiamo a flegare solamente read only e andiamo a crearlo e noi qui andremo ad inserire il codice che ci è stato appena inviato tramite mail a volte le mail potrebbe non partire questa cosa succede anche quando si fa il login in quel caso mettete sempre click to resend vi arriva immediatamente non so per quale motivo ma capita veramente sempre quindi sappiate che se non arriva le mail cliccate subito su click to resend e vi arriva immediatamente ok come potete vedere mi ha creato questo codice cosa dovremmo andare a fare ve lo metto a schermo così è ancora più chiaro una volta che abbiamo aperto delta andiamo sul triangolino centrale che è diciamo il menu base poi clicchiamo in alto a sinistra ovviamente vedremo 0 perché non abbiamo mai fatto nulla in questo momento con delta clicchiamo su connessioni e dopodiché clicchiamo su scambi una volta che clicchiamo su scambi andiamo ad inserire una nuova connessione andiamo a selezionare uobi e una volta fatto questo dovremo andare ad inserire questi due codici che ci ha fornito uobi una volta fatto questo non dovremo fare più nient'altro in pratica delta si aggiornerà automaticamente per ogni transazione in acquisto in vendita fatta su uobi attenzione perché non sono comprese tutte le cose questo capita però anche su altre cose su binance e delta insomma un po' ovunque perché è impossibile tenere traccia di certe cose quindi ad esempio gli ordini avanzati gli ordini derivati la parte in staking tutte quelle cose non sono aggiornate in automatico però per quello che dobbiamo fare noi questo è perfetto perché a noi non ci serve fare altre cose quindi una volta collegate le api non dovremo fare nient'altro l'unica cosa su cui devi fare attenzione è che il bonifico che tu hai fatto in euro lui non lo vede perché non è un'operazione di scambio tra due asset diversi è un acquisto che tu hai fatto in euro quindi ti faccio vedere direttamente come fare in maniera tale che delta ti quadri perfettamente in maniera tale che tu possa sapere quanto hai speso quanto stai guadagnando quanto stai perdendo e questa cosa è molto utile anche dal punto di vista fiscale infatti vedo tantissime domande mi vengono fatte veramente tante sulla parte fiscale ovvero come faccio a sapere al 31-12 quant'era il valore dei miei asset sulla DeFi sulla SeFi sullo staking con delta io ho avuto sempre tutto sotto controllo quindi come si fa a registrare quanto abbiamo bonificato in euro vediamolo direttamente a schermo clicchiamo su più di nuova posizione aggiungi transazione manuale criptovaluta andiamo a cercare non so ad esempio gli USDT ovviamente io partirò sempre con gli USDT perché tutte le criptovalute su Wobby ma su qualsiasi piattaforma sono sempre o quasi sempre listate anche gli USDT quindi io vado a comprare gli USDT metto acquista dove l'ho comprato onestamente non mi interessa quello che vado a scegliere è la coppia di trading in questo caso andrò a cercare euro infatti io sono andato a comprare gli USDT tramite euro una volta che inseriamo magari il giorno e l'ora anche se non è che è fondamentale andiamo a inserire quanto abbiamo acquistato in totale ad esempio in questo caso abbiamo comprato 100 euro in totale di USDT e ne abbiamo acquistati 111 di USDT 111.24 vabbè adesso sto andando a memoria ovviamente io lo faccio con molta più attenzione dopodiché non dobbiamo fare nient'altro andiamo su aggiungi transazione e ci sarà giunta la transazione una volta fatto questo tutte le future transazioni come ho detto prima saranno aggiornate in automatico quindi ogni mese ci perderemo quanto? 15 minuti a fare tutto? a neanche insomma bisogna andare su market scrivere la criptovaluta e comprare non bisognerà fare nient'altro con questo ho finito spero che il video ti sia piaciuto e soprattutto spero che ti possa essere utile nel caso in cui ti sia piaciuto oppure ti sia stato utile ti chiedo il favore di lasciarmi un like perché mi fa molto piacere e mi aiuta anche a mandare avanti il canale un saluto e alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti